Già sono ricombogliano sul cittadino e abbiamo la conferenza del mercato di produttori Giacomo Rostoni. Giovanni è quello che lavora. Giacomo è quello che lavora. Mi appara presento il comitato di gestione del mercato, un mercato che grazie all'isola che c'è continua da 10 anni tutti i sabati mattina nel parcheggio di Comuniano, quindi nell'area poi che vedrà quest'anno la fiera. Quando Teto ci ha chiesto cosa ne pensavamo siamo stati ben felici di questa cosa, ho tenuto conto che i produttori che partecipano al mercato sono soci dell'isola e che l'isola è il titolare della convenzione con i Comuniano, quindi siamo nella stessa casa. Ecco, disponibilità e anche nella gestione poi dei flussi, tenuto conto come diceva Teto che i numeri non potranno essere quelli dell'isola. Per dare un'idea, mediamente noi facciamo 200 persone ogni sabato mattina con degli ingressi che qualche mese fa erano contingentati, adesso sono stati un po' liberalizzati, chiaramente sarà un'occasione anche per i produttori di allargare un po' il parterre delle persone che vengono facendo conoscere i nostri prodotti che sono tutti locali, biologici e naturali. Quindi massima disponibilità e ringraziamo l'isola anche per questa collaborazione.